E' quella chi è? Zooma su di lei. Prova da un'altra angolazione. Non posso. Abbiamo solo questa videocamera. Che sei venuto a fare? Volevo vederti. Starti vicino, sapere come stai. E dai, su, fatti vedere, bella. Merda, non si sposta. Potrebbe succedere anche a te. Potrebbero ammazzarti. Forse. Ma come fai? Che vita è quella che fai? E' l'unica che so fare. No. Io lo so che non è così. Fatti portare via da me. Fidati per una volta. Tu sei come me, fidati. Non posso. Mi dispiace, non posso. Non posso. Grazie. No. 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 Ci sei. Non posso.